La Toscana in realtà paga il livello più basso dei risarcimenti, mi preme dire che noi siamo in un sistema di autoassicurazione, cioè paghiamo direttamente e non paghiamo il premio assicurativo che sarebbe più del doppio, che costerebbe circa 80 milioni di euro e quindi molto alto rispetto a quelli che sono i risarcimenti che riusciamo a pagare, che molte delle cause che vengono intentate risultano poi alla fine infondate e che appunto il livello dei risarcimenti è molto basso rispetto alle richieste e anche rispetto al resto d'Italia. E poi dopodiché il rischio zero sappiamo bene che non esiste, non esiste da nessuna parte, noi abbiamo un numero di eventi avversi molto più basso del resto dell'Italia e la maternità, la ginecologia sono ovunque il settore dove naturalmente il livello del rischio è più alto, però insomma io credo che è una struttura dove si fanno ogni anno, come quella di Careggi, 4.000 parti e che esprime alte eccellenze ed è naturalmente una struttura dove le situazioni più critiche vanno a recarsi presso Careggi, insomma mi pare che complessivamente se ne debba dare un giudizio positivo, peraltro il caso della signora purtroppo deceduta a Careggi è ancora tutto da chiarire, le cause sono ancora tutte da accertare.